Anche a Teramo è suonata la campanella di tutte le scuole e da oggi ricomincia ufficialmente l'anno scolastico. E' come da tradizione tour per gli istituti del sindaco Gian Guido d'Alberto che ha voluto portare il proprio saluto. Ma l'occasione è stata anche quella di fare il punto della situazione per sapere cosa è cambiato dalla chiusura avvenuta nel mese di giugno ad oggi. Su tante scuole abbiamo messo in campo una serie di interventi e di lavori finalizzati in particolare alla risoluzione di problematiche di manutenzione ordinaria ma anche e soprattutto la realizzazione di spazi per i defettori e quindi per consentire alle scuole che avevano fatto richieste il tempo pieno. E' stato un impegno significativo da parte dell'amministrazione ma che risponde a un'esigenza che viene dalle scuole, che viene dalle famiglie e sicuramente si va in una direzione diciamo così ben precisa anche di trasformazione del servizio scolastico del nostro territorio. Sulla questione invece della manutenzione straordinaria o comunque direi all'edilizia scolastica legata all'utilizzo dei fondi della ricostruzione non ho alcuna difficoltà a nome di tutte le istituzioni della Repubblica a chiedere scusa per quello che non è stato fatto. E' ferma sul piano dei lavori ma siamo andati molto avanti con il riordino dei finanziamenti, altri ne abbiamo intercettati con i bandi che sono scaduti qualche giorno fa. Abbiamo fatto un'azione difficile e complicata di riordino insieme all'assessore Marroni, all'assessore di Padova, un'azione di riordino di tutti i finanziamenti esistenti, di recupero di ulteriori finanziamenti. Siamo pronti, oggi ci incontriamo qui a De Jacobis perché è una delle scuole che ha il finanziamento pronto sulla base dell'ordinanza 56 del 2018 e su cui è una delle prime quindi a partire con l'avvio della progettazione dei fondi dell'USR. Quindi una situazione di transizione in cui abbiamo fatto ordine e avviato una nuova programmazione che passa in particolare anche per alcune scelte verso le quali stiamo andando e che devono correggere una serie di errori del passato. Pensiamo alla questione della scuola Savini che è stata lasciata senza una risposta e senza un futuro che stiamo cercando di recuperare nel dialogo con l'USR per capire qual è lo spazio di manovra che abbiamo e soprattutto per dare una risposta e una reazione allo spopolamento del centro storico.